Ciao a tutti i carissimi amici, questa serata è stata bellissima, abbiamo assistito a un pezzo teatrale molto bello, fantastico, di buffa e poi abbiamo assistito a un concerto con Pianoporte dal Bibo. Ragazzi, mettete un bel like perché io e Ignazio ci stiamo divertendo, abbiamo anche tutti i fasci di luce su di noi come delle vere stelle. Sembra di stare in un film all'olivo di Anna, vero? Sì, sì, sì. Guardate che bella questa illuminazione alle nostre spalle, pieno arancio. Ragazzi, vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte, mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale di YouTube Giovanni Stavidi. Ciao, like, like, like. Yeah, 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 jumbo.